Musica Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Questa settimana il nostro teleobiettivo è costretto a mettere a fuoco uno scenario di guerra. Uno scenario di guerra che è piombato nelle nostre case nelle edizioni serali del telegiornale del 7 ottobre scorso e che il giorno dopo è finito su tutti i giornali attraverso i titoli più importanti. Per esempio il quotidiano avvenire la mattina dell'8 ottobre titolava ancora guerra altra morte. Nell'occhiello potevamo leggere Amas attacca Israele con razzi, blitz e la presa di ostaggi. Netanyahu risponde duramente con i bombardamenti. Centinaia di vittime da una parte e dall'altra. Pizza, balla, temo il peggio. Serve uno sforzo per una soluzione diversa. In prima pagina veniva sintetizzato un po' quello che era successo il giorno prima e che ci dà un attimo l'idea di quello che è stato l'inizio di questa recrudescenza della guerra in Terra Santa. E quindi leggevamo l'8 ottobre sulla prima pagina di avvenire almeno 200 gli israeliani assassinati, oltre 1.400 i feriti, le vittime palestinesi sono 232 già nel giro di poche ore e più di 1.700 colpiti. Nel cinquantesimo della guerra dello Yom Kippur centinaia di miliziani si sono infiltrati nel sud dello stato ebraico, hanno devastato Sderò e i kibbutz per ore, massacrando i civili e catturando decine di ostaggi. Poi la pioggia di razzi che ha colpito anche Gerusalemme e Tel Aviv. Il gruppo armato ha celebrato con video sui social la più grande vittoria, così l'hanno definita, che punta a frenare la normalizzazione regionale. polemiche sulla mancata previsione da parte di Netanyahu che per ricompattare l'opinione pubblica sotto shock ha proposto all'opposizione un esecutivo di unità. Biden ribadisce il proprio sostegno agli israeliani dicendo testualmente tutto ciò che occorre per i nostri alleati. L'Arabia Saudita chiede l'immediata fine del conflitto, l'Egitto si propone come mediatore ma si teme una escalation. Questa è la situazione fotografata la mattina dell'8 ottobre sulla prima pagina del quotidiano Avvenire. Ma vediamo la fotografia più attuale dalla prima pagina di Avvenire di oggi. Il titolo, anche in questo caso titolo di testata, i varchi necessari. E leggiamo a questo punto anche in questo caso la sintesi sulla prima pagina di Avvenire. I civili di Gaza e gli ostaggi israeliani. Mentre la guerra tra Israele e Hamas conosce una nuova escalation è su di loro che si concentrano le preoccupazioni della comunità internazionale che invoca vie di uscita concrete. Papa Francesco all'udienza generale ha parlato degli ostaggi chiedendo che vengano subito liberati in questa guerra in cui è saltata ogni distinzione, ogni regola, ogni diaframma. Sugli ostaggi si stanno attivando le diplomazie internazionali tra le quali cresce anche il pressing per una tregua finalizzata ad aprire un corridoio umanitario che consenta l'uscita di civili da Gaza da ieri al buio. Intanto la tensione sale anche al nord dove Hezbollah minaccia l'alta Galilea. Abbiamo letto dalla prima pagina del quotidiano Avvenire le parole, un frammento delle parole pronunciate ieri da Papa Francesco durante l'udienza generale. ma vogliamo ascoltare l'intero periodo che il Santo Padre è dedicato a questa ennesima escalation di violenza nel mondo. Vediamo. Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno del lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. è diritto di chi è attaccato a difendersi ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinetti a Gaza doveppure ci sono state molte vittime innocenti. Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi ma alimentano l'odio, la violenza, la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medio Oriente non ha bisogno di guerra ma di pace di una pace costruita sulla giustizia sul dialogo e sul coraggio della fraternità. Parole che dovrebbero far riflettere non solo i cattolici ma a queste parole poi ne seguiranno anche altre che fra poco vi leggeremo da una lettera molto particolare. Intanto da pagina 2 dell'edizione odierna del quotidiano avvenire scopriamo il perché in prima pagina si è evidenziata la paura il timore di un ampliamento del conflitto di un'ulteriore diffusione della guerra in Medio Oriente. Il titolo che troviamo in taglio basso in seconda pagina sul quotidiano avvenire è la chiamata di Hamas alla mobilitazione. domani invitiamo i popoli arabi ad unirsi alla nostra lotta e un appello alla Cisgiordania. Se la regia ci aiuta anche facendoci vedere la pagina 2 di avvenire leggiamo almeno la parte più importante di questa breve ma significativa notizia. Hamas rilancia e mira ad accendere nuovi fronti l'obiettivo è che le fiamme dell'incendio che da sabato sta bruciando Israele e Gaza investano anche la Cisgiordania. Invitiamo i popoli arabi e musulmani e i palestinesi da ogni luogo in particolare nei campi profughi all'estero a marciare verso i confini della Palestina occupata in solidarietà con la Palestina, Gerusalemme e la Moschea di Al-Aqsa. Con queste parole il movimento islamico ha lanciato l'appello a partecipare al venerdì di mobilitazione e protesta dopo i risultati storici ottenuti dalla resistenza palestinese contro l'occupazione israeliana con l'operazione Diluvio Al-Aqsa. L'obiettivo è sostenere la resistenza, svelare i piani israeliani e difendere la Moschea di Al-Aqsa. Non solo, Hamas ha esortato i giovani palestinesi della Cisgiordania ad affrontare e scontrarsi con i soldati israeliani. Questo dunque l'appello che viene rivolto e che lascia presupporre un ampliamento della situazione bellica ma un altro appello, un appello per la pace ma un appello che chiede preghiere per la pace ci arriva dal patriarca latino di Gerusalemme il cardinale, neocreato cardinale Pier Battista Pizzaballa che scrive all'intero popolo cattolico del mondo anche nella sua veste di presidente dei Vescovi della Terra Santa. Una lettera, quella sua, firmata l'11 ottobre 2003 in cui, anche qui leggiamo qualche stralcio il cardinal Pizzaballa scrive ancora una volta ci ritroviamo nel mezzo di una crisi politica e militare siamo stati improvvisamente catapultati in un mare di violenza inaudita l'odio che purtroppo sta già sperimentando da troppo tempo aumenterà ancora di più anche Pizzaballa teme che questo odio questa escalation di violenza possa aumentare ancora di più e la spirale di violenza che ne consegue creerà altra distruzione tutto sembra parlare di morte ma in questo momento di dolore e di sgomento non vogliamo restare inermi e non possiamo lasciare che la morte e i suoi pungiglioni siano la sola parola da udire per questo sentiamo il bisogno di pregare di rivolgere il nostro cuore a Dio Padre solo così potremo attingere la forza e la serenità di vivere questo tempo rivolgendoci a lui nella preghiera di intercessione di implorazione e anche di grido a nome di tutti gli ordinari di Terra Santa invito tutte le parrocchie e comunità religiose ad una giornata di digiuno e di preghiera per la pace e per la riconciliazione chiediamo che nel giorno di martedì 17 ottobre tutti facciano un giorno di digiuno e astinenza e di preghiera si organizzino momenti di preghiera con adorazione eucaristica e con il rosario alla Vergine Santissima questo è dunque l'appello un appello per la pace ma un appello finalizzato alla pace attraverso la preghiera che ci viene rivolto dal cardinale Pier Battista Pizzaballa che tra l'altro è un profondo conoscitore della realtà del Medio Oriente e della Terra Santa in particolare perché prima di essere nominato Patriarca è stato per moltissimi anni custode della Terra Santa e ora prima di fare la pausa e poi accingerci ad affrontare l'argomento con l'ausilio di un nostro esperto fotografiamo la situazione all'ultimo minuto vediamo il sito del Corriere della Sera in questo momento che cosa ci dice circa la situazione in Terra Santa ancora sirene in Israele oggi l'incontro Blinken-Netanyahu Gaza al buio 50 vittime nella notte tutto perso Dio ci aiuti questo l'appello che viene dalle popolazioni e soprattutto da chi le rappresenta la fotografia di quello che è accaduto dal 7 ottobre fino ad oggi l'abbiamo scattata subito dopo una breve pausa pubblicitaria ci collegheremo attraverso i mezzi della tecnologia per una video intervista con il generale Piero Laporta esperto di studi strategici con il quale leggeremo il perché, le cause di questa ripresa della violenza in Terra Santa e quali sono le prospettive al di là delle preoccupazioni che abbiamo già sottolineato in questa prima parte del programma tra pochissimo restate con noi Siamo collegati via Whatsapp con Piero Laporta generale di divisione in pensione dell'arma del genio ha frequentato l'accademia militare e la scuola di guerra e laureato in scienze strategiche presso l'università di Torino ha avuto incarichi nello stato maggiore della difesa come capo sezione di strategia globale capo ufficio relazioni internazionali capo di stato maggiore del centro alti studi della difesa ha svolto indagini per la commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto Mitrochin in particolare occupandosi dell'attentato a Giovanni Paolo II e sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro che peraltro è un tema che ha continuato a seguire e che di recente hanno comportato l'uscita di un libro che riscrive completamente la storia del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro ma ecco lo vediamo per certi versi anche inquadrato ma non è questo l'argomento di oggi probabilmente ne parleremo nelle prossime settimane oggi ci concentriamo su quello che è successo e che sta succedendo in Israele è possibile che il cinquantesimo anniversario della guerra dello Yom Kippur possa essere stata la motivazione o è stato solo il pretesto di questa escalation nuova escalation di violenza le guerre caro direttore non si fanno per commemorare altre guerre poi aggiungo una questione che per me è fondamentale noi non dobbiamo parteggiare per nessuno è una lite fra diavoli di diversi gironi ora non sai qui c'è un siamo in una situazione globale estremamente incerta e questa guerra fa parte di quel globalismo bellicista che sta affliggendo il mondo io sono fra quelli che sostiene una tesi eretica noi possiamo evitare la guerra abbiamo la forza per evitare la guerra no abbiamo la forza per smorzare una guerra no abbiamo una forza per orientare una guerra no abbiamo quindi davanti solo un'unica scelta aspettare che i grandi si scannino reciprocamente si facciano quanto più male possibile perché è l'unica strada che noi abbiamo per risalire la china quindi io non mi sento responsabile di questa guerra in Medio Oriente da una parte e dall'altra hanno cercato questo risultato da una parte e dall'altra ci sono dei figuri veramente sinistri e non è che noi possiamo molto oltre che pregare e non purtroppo la situazione o la si guarda con realismo oppure è meglio leggersi un fumetto ma c'è un obiettivo che cercano di perseguire gli attaccanti in questa guerra o si sta facendo una guerra perché si risponde ad una logica internazionale di utilizzo delle armi ma sicuramente il se Trump ha additato un pericolo sionista e se il a un certo punto abbiamo visto il più efficiente servizio segreto militare del mondo non accorgersi della del fatto che Hamas stesse accumulando risorse militari di ogni tipo ai confini che stesse preparando ad attaccare qualche cosa c'è perché Netanyahu che ha solo quattro voti di maggioranza nel Parlamento israeliano sappiamo quanto sia popolare e per la prima volta nella storia di Israele ogni settimana centinaia di migliaia di manifestanti si sono riuniti in piazza contro il governo questa guerra ha dato la possibilità a Netanyahu di invocare un governo di unità nazionale e restare in sella e poi e poi dall'altra parte certamente non la schenazzita Zelensky non sta simpatico a Teheran ma stiamo anche dimenticando che tutti i media italiani sono stati distratti il 2 ottobre quando un attacco missilistico sull'accademia militare di Damasco mentre brevettavano i cadetti ha fatto 120 morti e 110 feriti alcuni e non pochi di questi morti sono rimasti decapitati come i bambini che oggi scandalizzano i media occidentali ma nessuno ha detto nulla ora questo è stato un conflitto cercato da ambe due le parti e noi dobbiamo solo aspettare che si esauriscano e si dilanino reciprocamente non si può fare altro il Biden ha dato il permesso di accedere ai depositi di munizioni che gli Stati Uniti hanno sul suolo israeliano da circa 30 anni e la prima volta che danno questo permesso sono dei depositi di munizioni esplosivi bombe aeree tutto quello che vengono e sono extraterritoriali sono territorio degli Stati Uniti nel su Israele e sono manutenuti si fanno i ricambi citricamente bene per la prima volta gli israeliani avranno accesso pieno pienamente libero a questi depositi potranno attingere e utilizzare gli ordini io dubito che questa sia la soluzione dichiaratamente l'obiettivo è di ridurre Gaza a una enorme tendopoli e poi ecco sempre bisogna ogni guerra dovrebbe iniziare con una domanda e poi che facciamo ma di solito è una domanda negleta e in tutto questo si evince ancora una volta una sorta di impotenza delle Nazioni Unite a rispettare quello che è il ruolo per il quale sono state costituite le Nazioni Unite hanno completamente perso lo scopo iniziale negli ultimi nelle ultime settimane hanno tentato un autentico golpe mondiale imponendo una sovranità sanitaria che non trova giustificazioni né scientifiche né politiche di nessun tipo se non assolutamente autoritarie e questo tentativo per un verso patetico per l'altro verso criminale ha dato modo a campioni di democrazia come Putin come il dittatore della Bielorussia e altri della stessa Risma di presentarsi come campioni della libertà opponendosi con una letterina che avrebbero dovuto fare i nostri governi e che invece non hanno fatto e guardi direttore la il signore acceca chi vuole perdere io mi vado convincendo veramente che le classi governative ma non solo quelle occidentali tutte qui come in Russia come in Cina come a Gerusalemme come nella striscia di Gaza vadano con entusiasmo verso il precipizio la guerra si determina storicamente io in questo non è un non è che uno faccia la guerra perché vuole farla perché gli piace farlo perché è un guerriero perché si creano le condizioni oggettive bene costoro hanno creato alimentare le condizioni attive che portano alla guerra grazie al generale Piero Laporta per averci aiutato a capire le cause e le prospettive di questa guerra purtroppo non ci ha potuto dare notizie incoraggianti grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti